Dovrà essere consegnata entro ottobre la nuova ala di Palazzo di Giustizia con un ritardo di sette anni rispetto alla data prevista. Così come prevede il contratto di appalto con la nuova ditta subentrata dopo una serie di vicissitudini. La direzione dei lavori è passata dal comune al provveditorato per le opere pubbliche come sarebbe dovuto essere sin dall'inizio. I lavori del Palazzo di Nove Piani, due sono in seminterrato, sono sul finire, mancano ancora alcuni infissi e il completamento di altre rifiniture. Nella nuova ala andranno gli uffici della Procura che sono in un solo piano al momento, troppo poco lo spazio, sono infatti necessarie più stanze per i magistrati, uffici e archivi.